Il comune di Rimini presenta il conto alle famiglie dei bambini non in regola con i vaccini, in diversi casi riscontrati sistematici rinvii degli appuntamenti per eludere le vaccinazioni. Da ottobre in Emilia Romagna tornano le limitazioni al traffico e al riscaldamento domestico per la qualità dell'aria, salvi gli Euro 4, si lavorerà anche nelle scuole. La festa del Borgo Sant'Andrea a Rimini quest'anno non si terrà, lo ha deciso all'unanimità e direttivo, ma si tratta di una pausa per preparare il rilancio. Il tempo di un viaggio, sabato alla Galleria dell'Immagine di Rimini, una mostra dedicata a Marco Pesaresi in collaborazione col SeaFest. Con l'inizio della scuola si torna a parlare di vaccini. Il comune non può chiudere gli occhi davanti ad atteggiamenti palesemente elusivi. Lo dice l'assessore Morolli commentando il caso dei 13 furbetti per dei vaccini. Per loro è scattato il provvedimento di decadenza da nidi e scuole di infanzia. Si aggiungono a chi già nelle scorse settimane aveva ricevuto la notifica. Dovrebbero essere 34 i bambini tra gli 0 e 6 anni che nel prossimo anno scolastico non potranno frequentare nidi o scuole di infanzia del comune di Rimini perché non vaccinati. Nei giorni scorsi l'amministrazione ha pubblicato il resoconto sull'albo pretorio. Nel documento si ripercore l'iter seguito. Al 10 giugno scorso, nell'elenco degli iscritti inviato dall'Ausl al comune, risultavano ben 184 posizioni irregolari. Successivamente, si legge, diversi minori sono stati ritirati e per altre è stata presentata spontaneamente la documentazione attestante la situazione vaccinale. Delle 90 posizioni rimaste in bilico, 28 risultavano quelle prive di qualsiasi documentazione e per le quali è scattato il provvedimento di decadenza dall'iscrizione ai servizi per l'infanzia comunali, come previsto dalla legge Lorenzin. Alcune di queste posizioni sono poi rientrate. Sette. Alcune famiglie, infatti, non avevano correttamente comunicato l'avvenuta vaccinazione. In totale, non a norma ne sono quindi rimaste 21, ma per due bambini è stato al momento annullato il provvedimento perché non è ancora avvenuto il previsto contraddittorio. Al conto dei non in regola si aggiungono poi altri 13 bambini le cui famiglie hanno tentato di fare le furbe. Alla richiesta di presentare idonea documentazione hanno presentato per l'ennesima volta la richiesta di appuntamento all'Ausl. Richiesta, che a seguito dell'istruttoria, è stata giudicata un espediente finalizzato ad ottenere l'accesso ai servizi per l'infanzia, visti i precedenti appuntamenti fissati e poi puntualmente in evasi da parte delle famiglie stesse. Inutili anche gli ulteriori sette giorni concessi dal comune, che visto il comportamento tenuto da queste famiglie nello scorso anno scolastico, ha fatto quindi partire il provvedimento di decadenza. L'amministrazione non può chiudere gli occhi davanti ad atteggiamenti palesemente elusivi, commenta l'assessore Morolli, anche perché si sta parlando di tutela della salute, in particolare delle fasce più deboli ed esposte, conclude. C'è anche la controparte. I genitori Frivax del Comitato per la Libera Scelta non ci stanno e annunciano ancora battaglia. Molti genitori, si leggono una nota, vedranno i figli subire l'esclusione dai percorsi scolastici già avviati senza alcuna ragione medica obiettiva. Il Comitato intende denunciare questa situazione paradossale in tutte le sedi possibili. La cronaca si aggirava ubriaco e fradici in via Marconi a Miramare, colpendo con una sedia tutte le auto in sosta che incontrava lungo la strada. A dare l'allarme nella notte alla questura di Rimini è stato un albergatore della zona. La volante a corsa sul posto ha individuato l'ubriaco, un 28enne foggiano con diversi precedenti, in via Ambrosoli, mentre stava litigando furiosamente col proprietario di un'auto danneggiata, questa volta con un calcio. L'esagitato, invece di calmarsi e mostrare i documenti, si è scagliato contro i poliziotti cercando di colpirli con testate, calci e pugni. Dopo un breve parapiglia è stato ammanettato, ma non si è calmato neanche nella volante, dove ha continuato a sferrare calci e spallate a sedili e sportelli. Arrestato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento, questa mattina nel 28enne in tribunale, comparso per la direttissima, il giudice ha disposto i domiciliari nel luogo di residenza e il foglio di via obbligatorio dal comune di Rimini. Dal 1 di ottobre tornano in Emilia Romagna le misure per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti e gli effetti dei riscaldamenti domestici, confermate in sostanza le misure dello scorso anno con alcune novità. Dal 1 ottobre al 31 marzo tornano le limitazioni antismog nei 30 comuni Emiliano Romagnoli con più di 30.000 abitanti. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 e nelle domeniche ecologiche non potranno circolare nei centri urbani i veicoli benzina pre-euro ed euro 1, quelli diesel fino a euro 3 compreso e cicli e motocicli pre-euro. Possono invece circolare i mezzi alimentati a metano, GPL, elettrici, ibridi e quelli con almeno 3 persone a bordo se omologati per 4 o più posti e con almeno 2 persone se omologati per 2 o 3 posti. Via libera anche ai trasporti specifici o per usi speciali e ai mezzi in deroga per motivi di assistenza o emergenza. Le domeniche ecologiche saranno in tutto una decina. Per quanto riguarda il riscaldamento domestico, previsto lo stop all'utilizzo di caminetti, stufe a legna o pellet di una classe 1 stella e, novità di quest'anno, 2 stelle. Per le nuove installazioni, in Emilia Romagna è consentito utilizzare nuovi impianti con classe emissiva 3 stelle o superiore, ma dal 1 gennaio sono nuovi impianti di classe 4 stelle o superiore. È inoltre obbligatorio nei generatori di calore a pellet di potenza termica sopra i 35 kWh l'uso di pellet certificato da un organismo accreditato. In caso di sforamento consecutivo dei valori di PM10 per 3 giorni scatteranno limitazioni aggiuntive. Il direttivo dell'Associazione Quei dei Borghe Sant'Andrea di Rimini, che promuove dal 2001 la festa del Borgo Omonimo, ha deciso di posticipare la festa del 2019 allo stesso periodo del 2020 in autunno. A dettare la scelta sono state le difficoltà organizzative. Il numero esiguo dei soci, la prossimità alla data del 14 ottobre, festa del patrono San Gaudenzo e tradizionale collocazione dell'evento. Una pausa però per preparare un rilancio. Si lavorerà per rinnovare la vesta e i contenuti della festa e trasformarla da appuntamento biennale a evento che si ripeterà con cadenza annuale ogni ottobre. La decisione è stata presa all'unanimità da tutti i soci. Sarà inaugurata sabato alla Galleria dell'Immagine di Palazzo Gambalunga a Rimini, la mostra di Marco Pesaresi, Il tempo di un viaggio, che fa parte dell'edizione 2019 di Rimini, foto d'autunno, produttrice della mostra dell'Associazione Culturale Savignano Immagini Sifest di Savignano sul Rubicone. La transiberiana è l'ultimo lavoro che Marco Pesaresi ha lasciato prima di andarsene. Fece questo viaggio nella primavera del 2001. Il tempo di un viaggio, da sabato in mostra alla Galleria dell'Immagine di Rimini a Palazzo Gambalunga, è una selezione di 58 scatti su 1800. Si riconosce la Russia degli anni 90, palpita il desiderio di contatto e di relazione, nonostante le difficoltà di comunicazione. Marco non si nasconde, non ruba le foto, le sue immagini sono incontri prima di essere racconti. La mostra completa la trilogia che il comune di Rimini ha dedicato all'indimenticato fotografo riminese famoso in tutto il mondo. A lui, da 18 anni, all'interno del Sifest che si terrà a Savignano sul Rubicone dal 13 settembre, è dedicato il premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. L'archivio di Marco è stato depositato dalla madre, Isa Perazzini, a Savignano sul Rubicone per conservarlo e catalogarlo. L'archivio conta oltre 55 mila documenti fra negativi, stampe, diapositive e fotografie. Lui era uno scrittore con le sue fotografie. Telefonava due o tre volte al giorno, da qualsiasi parte fosse. Gli dicevo Marco, ma ancora? Sì, perché ti voglio raccontare questo. Da Mosca a Vladivostok, una marea di chilometri, migliaia e migliaia di chilometri, perché il viaggio allora durava 7-8 giorni e quando si arrivava a Vladivostok c'era un altoparlante che diceva signori passeggeri, si scende, qui è finito il mondo. E io sono felicissima, non abbiamo fatto in tempo, l'abbiamo messo come l'aveva scritto lui, perché nella mostra c'è tutto il racconto del suo viaggio. Lui diceva, mamma non conta quanto uno vive, può vivere 20 anni, 40 anni, 80 anni, non ha importanza. L'importante è che lasci una traccia del suo passaggio. Parliamo di musica. Dopo il premio Suoni dall'Italia, ricevuto l'anno scorso nell'ambito del premio Bianca da Ponte, ancora un riconoscimento per la cantautrice riminese Chiara Raggi, che tra una settimana in Calabria riceverà il premio Castro Villari d'autore 2019. La seconda edizione del premio, ideato e organizzato dal musicista e cantautore Sassà Calabrese, all'intento di premiare figure rilevanti della scena nazionale. Dal 2017 Chiara Raggi è protagonista su Icaro TV delle clip di disavventure di un cantautore femmina e di uno spazio settimanale nella trasmissione del mattino Tempo Reale. E restiamo in ambito musicale. Da De Andrea a Raul Casa Dei, passando per Lu Colombo e Rigueira, sono tanti gli artisti che hanno dedicato canzoni a Rimini, uno dei luoghi di maggiore impatto nell'immaginario nazionale e che non lascia indifferenti neanche le nuove generazioni. A Rimini ha intitolato una canzone anche un giovane cantautore piemontese, accompagnata dal suo primo video che è online da alcuni giorni. Si chiama Nessuno, scritto con un tre al posto della E, all'anagrafe Giuseppe Merliccio, giovane cantautore torinese che, dopo esperienze in alcune band, ha deciso di provare la carriera solista. Il suo video di esordio è Rimini, dove Rimini compare fisicamente solo in cartolina, ma nel testo è l'oggetto del desiderio dove evadere dalla quotidianità, tanto da sognare di restarci per sempre. Il contesto è quello del nuovo indie italiano, ispirazione dichiarata. Il video è decisamente a basso costo, ma non banale. Il necessario per una giornata al mare, trasportato in riva a un laghetto suburbano. Nessuna pretesa di farne un tormentone estivo, anche perché il video è uscito ad agosto inoltrato. Il ritornello è piuttosto orecchiabile e chissà che Rimini non porti fortuna a nessuno. Siamo al calcio. È arrivata a quota 1154 la campagna abbonamenti del Rimini Football Club. Lo rende noto la società biancorossa ricordando che c'è tempo fino a sabato per sottoscrivere le tessere. Atmosfera coinvolgente, oltre 300 persone in piazza a primo maggio. Ieri sera per la presentazione del Cattolica Calcio San Marino. Subito sul palco il sindaco di Cattolica Mariano Gennari, l'assessore allo sport Nicoletta Olivieri e il presidente della società giallorossa Luca Mancini. Poi hanno sfilato i tecnici del settore giovanile con supervisore organizzativo Orlando Leardini e il responsabile Mirko Palazzi. Quindi è stata la volta della prima squadra che domenica scorsa è esordito con una sconfitta amatelica nel girono F dei dilettanti e che sabato alle 18 allo stadio Mazzola di Sant'Arcangelo affronterà il Porto Sant'Elpidio. Vediamo. C'è un po' di emozione. Il calcio non è una scienza esatta e quindi in questi anni abbiamo avuto delle gioie, abbiamo avuto anche dei dolori. La botta più grossa è stata quella dell'anno scorso con il paventato fallimento che poi si è conclamato quest'anno e credo che tutti noi dobbiamo essere grati al presidente Luca Mancini, un imprenditore che il caso ha voluto che noi non avevamo più l'inquilino e lui cercava una casa. Stiamo ultimando i lavori e faccio questa piccola promessa che voglio il 21-22 settembre giocare perlomeno la seconda partita in casa nel nuovo stadio col nuovo manto sintetico fiammante. Io sono veramente entusiasta di questa cosa. Al tempo stesso sono anche un po' preoccupato perché sai le aspettative qui sono alte, tanta gente, tanto entusiasmo e una continuità. Nel calcio non si può improvvisare al di là delle scelte che si possono fare sui giocatori, sugli staff. L'importante è avere le idee chiare, programmare nel tempo come abbiamo deciso di fare, lavorare tutti a testa bassa, fare poche promesse e tanti risultati. È una grande responsabilità che mi ha dato il mister. Siamo un gruppo giovane, dateci fiducia anche se siamo partiti col piede sbagliato, però sono positivo. Sono rimasto sorpreso a dire la verità perché una tifoseria così calda è veramente difficile trovarla soprattutto in Serie D. Penso sia una delle piazze più calde della Romagna e potranno darci una grande spinta secondo me. Quest'estate è stata l'ennesima, è stata un po' travagliata e dopo abbiamo sequestrato questo grossissimo colpo di fortuna di riuscire a trovare Luca Mancini che è un imprenditore serio. San Marino è una società seria che ha fatto sette anni di professionismo. Ricordo che il San Marino ha sempre pagato tutto e tutti, non ha mai avuto un punto di penalizzazione, quindi questo vuol dire che ha i dati rifatti in una società seria. Ho visto per la prima volta l'amministrazione comunale molto coinvolta, sia sotto l'aspetto della raccolta pubblicitaria che nell'investimento della struttura. Ci siamo ritrovati veramente a far fronte a tantissime cose, anche nuove per noi, perché il settore giovanile per esempio ci ha portato via tanta energia ma ci ha creato anche tanto entusiasmo, perché i bambini portano entusiasmo, sono tutti felici quando vengono con i genitori ad iscriversi e nonostante l'amore di lavoro però noi siamo veramente contenti. La presentazione del Cattolica Calcio San Marino sarà trasmessa questa sera dalle 20.35 su Icaro TV e anche in streaming sul sito icaro.tv. Alle 21.30 sarà invece trasmessa la serata su sport e discriminazioni dal titolo Arpad Bais dallo Scudetto ad Auschwitz, organizzata nell'ambito di riutilizzarsi Colonia Bolognese 2019. È tutto a seguire il meteo, sono previste nuove perturbazioni da domani pomeriggio anche sul riminese e vi ricordo anche il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito dalla redazione, l'augurio di una buona serata.